Naturalmente Teramo scossa dalle ultime vicissitudini, un fulmine a ciel sereno. Incontriamo proprio qui a Pescara Franco Iachini, che è ancora proprietario del 40% del pacchetto. Può tornare proprietario del club Franco Iachini? Sulla carta sì, potrebbe essere, però non è così semplice perché qui c'è un solo Oste che decide. In questo caso l'Oste è la Procura di Roma, la quale in questo momento ha sequestrato le quote alla società ed il Green, che è la società a cui ho venduto il 60%. Ecco il ventaglio di ipotesi però Iachini. Guardi, tecnicamente con nuovi regolamenti NOIF varati la scorsa primavera, quando la società comunica l'ingresso di un nuovo socio sopra il 10%, e questo è avvenuto lunedì scorso, ci sono penso 20 giorni di tempo entro cui la federazione debba pronunciarsi sui requisiti di onorabilità e sostenibilità economica del nuovo socio. Qualora questi vengono accettati, il nuovo socio è a tutti gli effetti un membro per la federazione. In caso contrario potrebbe essere bloccata, annullata la cessione, no? No, diciamo che la federazione invita la vecchia proprietà a riacquisire le quote, penalizzando istantaneamente il club di due punti, e dentro 30 giorni bisogna fare questa eventuale retrocessione, trascorsi i quali purtroppo ci sarà la radiazione della società, se non dovesse avvenire. Ma questo, come dicevo prima, non è che lo decide Franco Iachini o piuttosto la Edil Green che ha comprato, in questo caso è chi prende la decisione la procura di Roma che dovrà, che è lei la titolarità, il titolare effettivo, in questo momento sono loro i soci di maggioranza della Terramo Calcio. Lo stato d'animo di Iachini qual è? Ho manifestato l'intenzione di cedere alla società da oltre un anno e si sono susseguiti una serie di personaggi alla cosa. Con loro ci siamo incontrati all'inizio dell'estate, a giugno, che poi la trattativa si è interrotta per diverse valutazioni di mercato della società. Sono tornati lo scorso ottobre, perché comunque già nel frattempo si erano avvicinate anche altri soggetti, che in cui già stavamo trattando, sono stati sollecitati anche dall'ex direttore sportivo del Terramo, Sandro Federico, che tra l'altro li aveva introdotti in città anche per fargli capire le opportunità di sviluppo che ci potevano essere sullo stadio. Naturalmente quando sono venuti comunque la società si trova in un'ottima situazione, sia economica, perché comunque è una società che ha una forte dividità in cassa, data dalle plusvalenze cedute, è anche un'ottima organizzazione, un'ottima situazione finanziaria. A questo punto loro hanno fatto subito un'offerta, come dire, una buona offerta, quindi hanno dimostrato di voler fare bene lo sviluppo della società, e quindi per me a questo punto io ho ceduto ben volentieri la maggioranza e che comunque era propedeutica al passaggio anche totalitario delle quote entro la fine dell'anno. Però è normale, io che cosa ne posso sapere di quelle che sono le cose. Mi auguro che sicuramente possano dimostrare la loro estraneità ai fatti e alle accuse mosse. e mi auguro fortemente che la Procura possa capire che la Teramo Calcio non è uno strumento che possa essere utilizzato a fini non corretti, non legali, ma è uno strumento di una città di passione, quindi spero che possa capire questo valore e poterlo restituire alla piena normalità e regolarità per i tifosi e i cittadini di Terramani. Il futuro di questo club in sostanza, in sintesi, non dipende da Iachini? Assolutamente no, non l'ho detto già prima, purtroppo non dipende da me. Perché ci sono delle quote sequestrate. Sì, 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 e lì il punto decide, io spero che ci sia della buona volontà da tutte le parti, però è normale, la Procura non è che sta a pensare adesso alla situazione del Teramo Calcio, penso che abbia cose ben più importanti di cui occuparsi, però io credo che se ci sia un po' di ragionezza e si capisce che comunque il Teramo Calcio non è uno strumento funzionale ad atti criminosi, credo che si possa fare tutte le azioni affinché si possa dissequestrare e dare modo di ritornare a far agire, perché io di fatto non posso fare nulla. È normale che adesso mi adopererò il più possibile per stare vicino alla squadra, a organizzare le trasferte, fin tanto che il presidente Chierchia, che naturalmente in maggio in questi giorni mi ha chiesto di dargli una mano sul territorio, è impegnato giustamente a Roma per altre necessità, giustamente per vedere queste cose. Farebbe di tutto, Iachini, se dipendesse da lui pur di salvare il Teramo? Io faccio quello che posso fare, per carità, non posso fare l'impossibile, quello che posso fare lo farò, perché non mi sono tirato indietro in questi anni mettendo, investendo risorse importanti, quindi adesso non penso di alzarmi dal tavolo e andare via. Se posso fare qualcosa sicuramente lo farò.